Simo, ecco Sì, la chiamata Non si può Proverà Come ho la camisa? Non, devo resi Willie Sì Susi Ma che fa? Non si può No, non è scusate Ma non è scusate Sì E salire casa qua. Stop, 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 stop. Allora, pronti tutti in posizione, grazie. Il motore. 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 È una pubblicità. Il motore. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.